Hanno ottenuto incentivi per 50 milioni di euro per la realizzazione di due impianti fotovoltaici su due serre in agro di Ozzieri per produrre energia elettrica funzionale alla produzione agricola. In realtà gli impianti producevano elettricità che poi veniva venduta. La truffa aggravata è stata scoperta dai finanziari del comando provinciale di Sassari insieme all'unità speciale di Roma, che hanno eseguito un provvedimento di sequestro dei due impianti fotovoltaici emesso dal GIP del Tribunale di Sassari. Le fiamme gialle hanno effettuato nei confronti dei sei legali rappresentanti dalle tre società coinvolte nella presunta truffa sequesti preventivi dalle somme di denaro incamerate a titolo di incentivi, che solo per il periodo che va dal 2011 al 2016 ammontano a 13 milioni e 700 mila euro. Grazie alle indagini della Guardia di Finanza sono state bloccate ulteriori erogazioni di incentivi, facendo ottenere allo Stato un risparmio di spesa di 41 milioni di euro. Le indagini condotte dal Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza hanno dato esito positivo dopo due ispezioni condotte nel mese di settembre del 2016. Sul posto è stata verificata anche la documentazione presentata dalle società ai fini del riconoscimento degli incentivi. Le successive attività del Nucleo Speciale hanno consentito di far emergere dalle condotte idonee a configurare l'ipotesi del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e lottizzazione abusiva. Dalle indagini è emerso uno specifico meccanismo, scrive la Guardia di Finanza, di froda ai danni del bilancio nazionale connesso alla realizzazione di impianti industriali di serre fotovoltaiche presentati come strumentali all'attività agricola. Gli impianti, qualificati come serre fotovoltaiche, hanno goduto delle agevolazioni nel settore agricolo, urbanistico e ambientale, ma non sono risultate pienamente funzionali all'attività agricola dell'azienda. Gli impianti, qualificati come strumentali all'attività agricola dell'azienda. Gli impianti, qualificati come strumentali all'attività agricola dell'azienda.